laura non c'è è andata via laura non è più cosa mia e a te che sei qua e mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà mi manca da spezzare il fiato se vuoi ci amiamo adesso se vuoi però non è lo stesso tra di noi da solo non mi basto stai con me solo strano che al suo posto ci sei te ci sei te bene e dopo questo momento di alta cultura noi siamo pronti per le nostre nec nomination io nec nomino massimo picca io manuele ledda andrea bruno e carlo alberto montori ma non è tutto noi andremo oltre faremo una nec nomination 2.0 una nec nomination di gruppo dunque per prima cosa io nomino rubic teatro teatro sequenza box attori quinta tinta e il detto fatto dateci sotto ragazzi ciao ciao perfetta